Sappiamo che il settore dell'agricoltura è afflitto da un crescente e allarmante invecchiamento della forza lavoro. Appena il 6% del totale di quanti dirigono aziende agricole nell'Unione Europea ha meno di 35 anni, mentre più del 50% ha superato i 55 anni. È necessario favorire il passaggio generazionale all'interno delle aziende e agevolare l'inseramento in questo ambito di giovani provenienti soprattutto da altri contesti familiari. Uno dei problemi principali è la disponibilità e il prezzo dei terreni agricoli. La concentrazione della proprietà e la speculazione fondiaria stanno infatti rendendo sempre più difficile l'accesso. Servono adeguati strumenti finanziari, a condizione che si verifichi però, con scrupolo, che questi aiuti vadano a sostenere gli agricoltori attivi. Il sostegno finanziario deve essere anche accompagnato dalla formazione dei nuovi imprenditori agricoli. Devono essere formati in gestione aziendale e competenze finanziarie e deve essere agevolato anche la modernizzazione e l'utilizzo di tecnologie digitali. Grazie.